Nella scorsa lezione abbiamo visto, nel Catechismo di San Pio X, la risposta alla domanda chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. La terza domanda è che significa perfettissimo? Risposta, perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione, sembra quasi una petizio principi, però non lo è, senza difetto, senza limiti, ossia che egli è potenza, sapienza e bontà infinita. Sembra una cosa così complicata per le persone che hanno la testa complicata, in un bambino invece non è così complicato, un bambino lo capisce subito, cosa vuol dire che una cosa è perfetta? Vuol dire che va bene, cosa vuol dire che va bene? Che è buona, che è bella, che è dolce, la mamma è perfetta, il papà è perfetto perché è forte, la mamma è perfetta perché è amorevole. Ed sono queste parole in fin dei conti, sentite, senza difetto, senza limiti, che difetti e che limiti vede un bambino piccolo, come dobbiamo essere tutti noi nella fede davanti a Dio, nel papà e nella mamma, non vedono difetti e limiti che effettivamente ci sono, non li scoprirà più tardi, ma noi siamo bambini di Dio, siamo i figli di Dio, nessun difetto, nessun limite, anzi lui è potenza, il padre, sapienza e bontà infinita, la mamma, perché Dio è padre e madre insieme, Dio è padre, attenzione, ma la Bibbia dice che ha viscere di misericordia, che in ebraico si dice Rahamim, Rahamim è l'utero. L'utero è la sensibilità, diciamo così, materna, una mamma nei confronti di sue figlie ha una sensibilità che il padre non ha, perché? Perché le ha portati nove mesi in grembo. Bene, questa è la bontà viscerale di Dio, una cosa meravigliosa. Allora in Dio noi troviamo la sapienza, la forza paterna, ma anche la dolcezza, la profondità delle viscere materne. Con queste semplici parole, vedete, noi le diciamo ai nostri figli, questo si sedimenta nel loro cuore e dopo che avranno passato i momenti di crisi, torneranno a scoprire che l'amore di Dio è così grande che può superare anche tutti i loro peccati, come ogni mamma è capace di fare nei confronti dei figli, che le rispondono male, che sono cattivi, che disobbediscono, ma la mamma è sempre la mamma, si può sempre tornare a lei perché in lei si sa che si può trovare un cuore sempre aperto. Allora ripetiamo anche per memorizzare questa terza domanda e risposta del Catechismo di San Pio X, che significa perfettissimo? Risposta? Perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione, senza difetto e senza limiti, ossia che egli è potenza, sapienza e bontà infinita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.